Troviamo dei lati positivi tra cui la fase difensiva, si poteva fare sicuramente meglio in avanti nelle scelte finali, abbiamo creato in particolar modo nel primo tempo situazioni favorevoli per fare gol, non siamo stati lucidi ma me lo potevo anche aspettare visto anche i carichi di lavoro che abbiamo fatto, va bene così, valuto come hai detto tu benissimo il fatto di non aver preso gol che è una cosa importantissima, tutte queste amiche che non abbiamo subito, abbiamo concesso anche pochissimo alla Reggiana e questo è fondamentale, grande possesso palla però migliorare nella verticalizzazione sicuramente. La Reggiana giustamente ha fatto una partita di attesa, ci ha aspettato una loro metà campo, erano sempre in dieci sotto palla, non era facile, comunque sono contento delle cose che hanno provato, dobbiamo migliorare ancora tantissimo perché pretendo una maggiore ricerca della verticalizzazione e significa osare un pochino di più, se in queste partite non si osa un po' di più si fa fatica a creare poi occasioni da gol. Oggi dovevo provare, avendo un po' una carenza di esterni offensivi ho provato lui, lo ritengo come ho già detto in passato più mezzala che esterno, in necessità lo può fare ma a me piace più come mezzala. Appuntamento principale in campionato però a me piace far bene già dalla Coppa Italia, per quello partiremo per cercare di passare il turno e di portare avanti anche la Coppa Italia, non sottoroteremo nessuna competizione. È stata, secondo me, un amichevole positiva, il risultato non è stato buono come quello contro il Carpi però abbiamo trovato molte volte la via, siamo arrivati molte volte davanti all'area, cross pericolosi, non siamo riusciti a sbloccare la gara, abbiamo trovato davanti una regione molto organizzata e niente, comunque l'importante era provare le cose fatte in allenamento e far girare un po' più le gambe che noi siamo riusciti. Abbiamo impostato nel gioco, dobbiamo migliorare e cercare di fare quello che ci chiede al mister però a questo punto della preparazione credo che sia giusto stare così, ecco, con le gambe un po' più pesanti e palle che magari non sono precise però cerchiamo di andare avanti tutti uniti verso il solito obiettivo. Il gruppo comunque è il solito dell'anno scorso quindi ci conosciamo bene, c'è una buona magga ma è normale, dobbiamo integrarci bene con quello che ci chiede all'allenatore però credo che stiamo facendo dei passi avanti di giorno in giorno. Ha cambiato, sì, dirai tanto perché l'anno scorso giocavamo a tre dietro e cinque a centrocampo, praticamente stavamo più schiacciati dietro per cercare ripartenze mentre qua cerchiamo subito di andare a pressare l'avversario, di non farlo ragionare e di attaccare sia sull'esterno che centralmente con tagli e inserimenti, diciamo che è un gioco molto diverso. Sono contento, in questa parte della stagione prima di tutto bisogna stare bene fisicamente, dopo un inizio un po' così del ritiro adesso devo dire che mi sento molto meglio, le gambe iniziano a girare per cui siamo sulla buona strada. Noi diciamo durante queste partite cerchiamo di fare le giocate che il mister ci dice, magari qualche volta forzandole pure, però solo così possiamo poi farle entrare automatiche nel nostro meccanismo di gioco per cui dobbiamo continuare su questa cosa. L'ossatura principale è rimasta quella dell'anno scorso, poi abbiamo avuto vari innesti giovani che sicuramente hanno buonissime qualità e non ci possono fare che bene, per cui questo ritiro serve per amalgamarci tutti insieme e poi andremo avanti quando inizia il campionato. Il mister ha un'impressione ottima perché ha dialogo con la squadra, perché sa come parlarti, sa come trattarti, magari perché anche lui ha giocato a calcio, per cui questo è sicuramente un punto a suo favore.